Ciao, sono Mariella, faccio parte dell'Energetic Club dal 2013, quindi da quando è iniziato questo percorso e in queste giornate dove c'è la certificazione è un'occasione importante perché abbiamo tutti quanti modo di fare un riepilogo di tutto quello che è stato il percorso e quindi è importante riprendere tutti i concetti, è un ricordare e un andare a rivedere alcune dinamiche che si sono presentate nelle serate che sono state fatte, quindi è una giornata per me utilissima e importante. Ciao, grazie. Oggi ho assistito alla presentazione, cioè alla certificazione dell'Energetic Club, è stata veramente una bella esperienza da poter vivere come i ragazzi hanno acquisito consapevolezza rispetto ad alcune tematiche. Io sono iscritto all'Energetic Gold, quindi cosa devo parlare? In effetti a volte tipo una tematica è dalla rabbia al potere personale, quindi sono delle cose che effettivamente noi non ce ne rendiamo conto ma sono veramente utili nel momento in cui siamo consapevoli di noi stessi. C'è stato un altro momento che è il Mastermind, dove io per la verità ho ricevuto del come magari unendo insieme più menti in realtà riesci a creare delle soluzioni a delle problematiche che magari tu neanche pensavi che potessi da solo riuscire. Invece c'è stata una sorta di visione dell'insieme e da lì è uscito fuori il risultato giusto che magari serviva per la missione della tua anima. Ciao, mi chiamo Ramona e frequento l'Energetic Club da ormai quattro anni e devo dire che da quando ho iniziato a seguire le sessioni del club sono cambiate tante cose nella mia vita perché ho appreso tante strategie anche pratiche e soprattutto pratiche che mi hanno aiutato ad aumentare la mia autostima, la mia forza di volontà e mi hanno aiutato a crescere e in questa giornata di certificazioni ho imparato la forza del gruppo soprattutto attraverso il Mastermind perché condividere con altre persone le proprie idee i propri progetti ci ha aiutato a tirare fuori delle caratteristiche e delle nuove soluzioni a quelli che potevano essere per me dei problemi quindi è stato proprio una bellissima giornata di condivisioni e vedere proprio come la condivisione aiuta a crescere perciò ringrazio Giusea e Anna Maria per aver creato l'Energetic Club e aver dato la possibilità a tantissime persone di aumentare la loro consapevolezza e soprattutto di vivere una vita più felice più serena e più appagante soprattutto la mia grazie ciao mi chiamo Ciro e appena partecipato alla giornata di consegna delle certificazioni per l'Energetic Club di Giusea Scafarelli e Anna Maria Ghinet è stata una giornata molto interessante ma soprattutto il messaggio che ho per te è che se davvero sei intenzionato a fare un primo passo concreto verso la realizzazione di te stesso iscriviti al club ciao mi chiamo Giovanni oggi sono qui a Malta alla giornata di conseguimento dei certificati per il termine del percorso con l'Energetic Club un club online in cui una volta al mese assieme a Giusea Scafarelli e Anna Maria Ghinet e parliamo vengono sviluppati dei temi legati a spiritualità e ricchezza in particolare volevo condividere con voi che in questa giornata abbiamo partecipato ad un mastermind con tutti i partecipanti dell'Energetic Club in cui ognuno ha proposto una propria dinamica e grazie alla forza e lo spirito di gruppo abbiamo avuto delle risposte più più ampie rispetto appunto alle nostre dinamiche e questo ci ha reso ci ha arricchito grazie buongiorno sono Raffaella Menolfi ho frequentato l'Energetic Club e oggi sono qui a Malta per ritirare le certificazioni sono molto soddisfatta del percorso che ho fatto molto utile a ogni mese si ha la possibilità di lavorare su dinamiche specifiche e un po alla volta si vedono delle trasformazioni profonde quindi lo consiglio a tutti chi ha dei problemi chi vuole conoscere meglio se stesso chi vuole raggiungere i propri obiettivi e non sa come fare consiglio a tutti di iscriversi all'Energetic Club perché è un percorso in cui si è guidati si è protetti ci sono due splendide guide Anna Maria Ghinet e Giuseppe Scaffarelli che seguono e ci aiutano veramente a scavare in profondità dentro di noi quindi grazie a tutti e vi invito se avete bisogno se avete bisogno di una mano e sentite di non farcela da soli a iscrivervi all'Energetic Club. Buongiorno sono Carmela Cesarano e ho partecipato all'Energic Club perché la mia adorata figlia mi ha portato insieme a lei a conoscere questo spettacoloso persone come Anna Maria e Giuseppe che guida questi ragazzi in un modo spettacolare in questo in questa lezione io ho imparato ad avere più fiducia in me ed amarmi di più. Ciao a tutti mi chiamo Claudia e mi sono iscritta all'Energetic Club dopo aver partecipato a un corso dal vivo di Giuseppe e Anna Maria e perché desideravo portare quella stessa energia vissuta al corso nella mia vita quotidiana ho visto la possibilità di mantenere con un impegno mensile anche abbastanza piccolo perché ho molti impegni nella vita e quindi con un impegno di una sola sera al mese la possibilità di ricaricarmi e rivivere quella energia splendida che ho sperimentato al corso e ora è un anno e mezzo che sono iscritta e sono molto felice perché ogni mese mi porto a casa una piccola consapevolezza e questo mi aiuta a vivere meglio la mia quotidianità. Ciao a tutti mi chiamo Giulio vengo da Verona è la terza volta che partecipo alla missione dell'anima un'esperienza straordinaria persone fantastiche alcune le conoscevo già e devo dire che ogni volta è un'esperienza nuova anche se la terza volta che partecipo e la consiglio a tutti perché si va veramente a a vedere dentro come si è fatti e tante belle cose anche brutte però quelle brutte si risolvono e quelle belle le rendiamo più grandi grazie a tutti ciao ciao a tutti sono eleonora camillo sono iscritta all energetic club da due anni e se non avete ancora fatto questa esperienza ve la consiglio l'anno prossimo spero di riuscire a prendere anch'io le certificazioni perché quest'anno non ci sono riuscita e ringrazio anna maria ghinet e giosea scafarelli per il loro aiuto quotidiano si può dire grazie ciao a tutti il mio nome è guenda prima di conoscere giosea anna maria io vivevo una vita anche monotona o comunque ordinaria dove c'era il lavoro lo studio è poco tempo per me ero completamente assorbita ma soprattutto vivevo nella nel eseguire dei doveri quello che andava fatto ecco fondamentalmente quando quello che andava fatto e lo facevo finché mi mi rendevo conto che comunque non aveva tanto senso non aveva tanto senso poi per me perché non non trovavo entusiasmo non trovavo gioia a un certo punto io ho incontrato in internet anna maria il sito di anna maria e ho comprato così distinto era estate mi ricordo che era agosto del 2012 ho comprato un suo un suo corso il potere se tu e da lì ho iniziato a vedere che caspita c'erano delle cose molto interessanti che mi aprivano completamente nuove prospettive è così che poi più tardi o mi sono iscritta l'energeti club è mese dopo mese io ero avvocato cioè sono ancora avvocato ma mi sono cancellata dall'albo perché perché e quindi seguivo le loro sessioni inizialmente in studio andavano via tutti i colleghi e mi mettevo lì e dalle nove di sera e seguivo regolarmente le sessioni ora che sono passati tanti anni e man mano man mano man mano tutta la vita riuscivo a vederla e a leggerla in maniera completamente diversa quindi nozioni teoriche molto importanti e le trasformazioni delle riprogrammazioni veramente efficaci veramente efficaci tant'è che io da allora ad oggi posso dirvi di aver trasformato completamente la mia vita in più in più vivevo allora sempre col senso del dopo quando sarai quando avrei finito gli esami quando avrei finito l'università quando avrei fatto la pratica quando sarai diventata avvocato tutto quando quando quindi tutto completamente spostato sul dopo e io mi sono persa tutto l'oggi tutto l'oggi ecco grazie a questa grazie alle sessioni di anna maria di giosea le lezioni dell'energeti club io ho completamente modificato il mio approccio alla vita e questo è sono infinitamente grata quindi io raccomando col cuore di fare un'azione una qualsiasi azione che vi possa portare in una condizione tanto peggio di così non potete stare quindi veramente chi mi ascolta in questo momento che non è un caso fate fate fatto un'azione se non altro saprete delle informazioni differenti vedrete il mondo in una maniera diversa e poi tutto quello che sarà sarà bellissimo io ve lo auguro come lo è stato per me soprattutto in quest'ultimo anno ciao sono rossa e sono l'energeti club tra da 2015 quindi da tre anni credo che sia più che le sessioni sono un percorso perché ogni sessione ti permette di entrare più in profondità dentro te stessa ed è molto la cosa mi piace di più di questi training di questo percorso intanto che si affondano argomenti molto grandi tipo il protere personale i problemi economici e come gestire la propria vita e che in ogni sessione c'è sia giosea che appuntà la dinamica da un punto di vista razionale per cui per chi come me molto razionale riuscire a dare del cibo alla mente quindi a comprendere proprio mentalmente alcune dinamiche molto importante poi c'è una media che invece va molto molto nel profondo a livello energetico quindi a livello di anima che è una cosa veramente trasformativa ci sono le riprogrammazioni che ti aiutano a lasciare andare tanto ovviamente sempre in base a quanto tu ti permetti la mia vita è cadere tanto per tutte le consapevolezze che ho preso e per tutte le cose che ho lasciato andare potevo lasciare andare molto di più ma quello che ho fatto quello che ho fatto in quel momento come sia la cosa giusta e alcuni li ho trovati attivissimi soprattutto per la costima e perché insomma è bello un appuntamento per chi è interessato a se stesso a stare meglio a comprendere come vivere meglio nella vita di tutti i giorni io lo consiglio grazie va ci siamo ciao 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 ciao